Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi dedicata alla pagina della cronaca nera. Vi riferiamo dell'attentato incendiario che si è registrato la scorsa notte a Gela in via Parioli nel quartiere Capo Soprano. Presi di mira i locali del CERT, il fuoco ha interessato anche l'ingresso degli uffici dell'azienda sanitaria provinciale. E' la polizia del locale commissariato che indaga sul greve fatto di cronaca che si è verificato la scorsa notte poco prima delle due in via Parioli nel quartiere Capo Soprano. Mani sconosciute hanno dato le fiamme la saracinesca dei locali del CERT, l'ufficio che offre assistenza ai tossicodipendenti. Il fuoco inoltre si è propagato all'ingresso degli uffici dell'azienda sanitaria provinciale. Gli investigatori stanno battendo numerose piste al fine di giungere all'individuazione dei responsabili. Requisite le immagini del sistema di videosorveglianza che si trova in zona. Giuseppe Piva, direttore del distretto sanitario giolese. Sembra il gesto vandalico di persone sconsiderate. Noi da un anno che cerchiamo con la direzione strategica di recuperare locali per i servizi, tant'è che il locale adiacente a quello dolosamente ingendiato era stato da poco aperto per rendere più fruibile il servizio di rilascio e esenzione di ticket per reddito e ci troviamo poi frustrati da questi atteggiamenti vile che mettono in crisi quelli che sono i servizi che offre l'azienda. Tant'è che oggi abbiamo immediatamente provveduto ad aprire un'altra entrata per i servizi del CERT ma è chiaro che si crea disagio agli utenti, al personale, ma alla cittadinanza anche per i servizi offerti accessorici a dire rilascio dei ticket che in questo momento sono stati invasi dai fumi dell'incendio per cui risultano anche, pur se funzionanti, sgradevoli per gli odori che sono all'interno e il fumo che si è creato. Da subito il direttore generale si è attivato immediatamente dopo essere stato informato a allertare le squadre per operare una pulizia straordinaria degli ingressi e dell'androne a rendere intagibile subito il locale, più le squadre di tecnici per il ripristino delle saracinesche e di quando è andato di sotto all'incendio e sull'ingresso. Fortunatamente i danni sono minimi, quindi interessano soltanto la parte di ingresso e la facciata che si è annerita e quindi da questo punto di vista c'è andata bene. Ho parlato con il dirigente del CERT, con il dottore Placido Larosa, mi diceva che non hanno avuto sendore in questi giorni di malcontenti o di rimostranze da parte delle utenze. Quindi non ce lo spieghiamo se non come un atto vandalico di persone che vogliono arrecare danno a questa struttura già di per sé abbastanza precaria. E un altro incendio si è verificato sempre la scorsa notte in via Artigiani. Distrutta la Fiat Punto di un pregiudicato su quest'ultimo episodio, indagano i carabinieri. Sgomento e incredulità sono le due sensazioni che hanno prevalso nell'apprendere, nel vedere il danno prodotto ad un importante ufficio pubblico come il CERT di Gela dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Lo scrivono in una nota Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro, segretari generali di Cigelle, Cisle e UIL. Il sindacato confederale, esattamente come ogni cittadino, prescindendo da ruoli e funzioni, condanna l'atto delinquenziale e invita la cittadinanza ad un'adeguata reazione sociale e culturale di coscienza. Bruciare la sede di un ufficio pubblico, in questo caso legato all'erogazione di un servizio sanitario di vitale importanza, è un gesto di una follia assoluta. È come se ognuno di noi decidesse di incendiare la propria casa. Non può essere l'abitudine al fuoco, sarebbe asservazione sociale, rischio che nessuna comunità civile può pensare di correre. Da decenni il sindacato confederale e non solo sente parlare di città videosorvegliata, tanto non lo è, se qualcosa ogni notte va in fumo. I cittadini hanno necessità di vivere in una città sicura e la sicurezza è un valore che va percepito. La sicurezza è anche un tratto non secondario per nuove strategie economiche. Le imprese, sottolineano ancora i sindacalisti, cercano sicurezza per insediarsi, perché la sicurezza è il primo vantaggio economico. Inoltre, giudice Gallo e Mudaro segnalano che al 113, attraverso chiamata dal cellulare, risponde un operatore di Caltagirone e al 115 un operatore di Caltanissetta. Così non va e non ci vuole chissà quale volontà politica per registrare qualche significativo passo avanti. E' fuggito in Sicilia il 32enne Giuseppe Sanfilippo, di origine mazzarinese, autore di un tentato omicidio e danni di un 27enne albanese raggiunto da dei colpi d'arma da fuoco lo scorso 28 giugno nel parco di Mugio, in provincia di Monza. Dopo serrate indagini dei carabinieri della compagnia di Desio, il 32enne è stato tratto in arresto dei militari del reparto territoriale di Gele, in attuazione a un decreto emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Monza. Un fatto di sangue risolto in 48 ore dai carabinieri grazie all'analisi dei dati di traffico dei telefonini cellulari del ferito, della disamina, dei filmati, dei sistemi di videosorveglianza e dall'esame di un'agenda ritrovata nell'abitazione del 27enne albanese sulla quale erano riportate annotazioni riconducibili all'attività di spaccio, congiuntamente ad alcuni dettagli forniti dalla vittima al risveglio dal coma. Un tentato omicidio riconducibile a quanto sempre a una consegna di un chilogrammo di marihuana. Una volta ottenuta la droga, infatti l'aggressore non ha esitato a esplodere due colpi di pistola all'indirizzo del pusher, uno dei quali lo ha centrato alla schiena facendola casciare a terra per poi darsi alla fuga a bordo dell'auto della vittima ritrovata abbandonata dai carabinieri a Nova Milanese. L'uomo, già destinatario di una condanna per omicidio commesso nel 2001, quando era ancora minorenne, è stato condotto nella casa circondariale di Gela dove dovrà rispondere di tentato omicidio, rapina aggravata, porto illegale di arma da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Puntata speciale questa sera di Agora, mantenendo il suo format di salotto televisivo, la fortunata trasmissione ideata e condotta da Franco Gallo andrà per così dire in trasferta, nel senso che uscirà dagli studi di Canale 10 per andare in onda in esterna dalla location dei locali dell'Istituto dei Benedettini. Al centro dello speciale di Agora, un tema che è anche l'asse portante del futuro di Gela, quali prospettive economiche di sviluppo per la Gela post-industriale. Appuntamento Gela 21 su Canale 10 con questa puntata speciale in versione estiva di Agora. Nel contesto dell'itinerario biblico sulle opere di misericordia proposto dal vicariato di Gela e dal Movimento della Divina Misericordia, domenica 10 luglio, Monsignor Michele Pennisi, giavescovo di Piazza Almerina, tratterà la decima opera di misericordia. L'arcivescovo di Monreale, dopo aver visitato la piccola casa della misericordia, presiderà alle 19.30 la celebrazione eucaristica e la conferenza nella chiesa del Rosario di Gela. Una piccola buca sul manto stradale all'incrocio tra via Firenze e via Giuffrida nel quartiere Sant'Ippolito a Gela, nonostante i numerevoli richieste, non è stata ancora riparata. Dalla prima istanza sono passati due mesi e nulla è accaduto. I residenti della zona protestano perché da quella buca fuoriesce un odore nauseabondo e la stessa buca è diventata meta preferita dei ratti. L'ho visto io, l'ho visto. Una di mattina era bello grosso e di sera c'erano quelle piccoline e se ne è andato dentro a gioco, della raretta a gioco. Il problema sono che io, se siamo malati, siamo malati, marito e mogliere. Ho letto l'abbiamo gioco, ho letto l'abbiamo gioco e avevo quasi due mesi che abbiamo fatto questo gioco. Si mettono da allora due, per me si può montare questo gioco e non si hanno visto un odore il comune. Un piccolo intervento, non chiedono altro i residenti. Noi dopo che abbiamo messo a confronto Caltacqua e il comune, siamo venuti a conoscenza che la responsabilità è del comune. Sono venuti a un posto delle transenne, però a tutt'oggi i lavori sono ancora da eseguire. Non capisco perché, perché è una piccola manutenzione, solo che la buca sembra piccola, però se noi andiamo a vedere all'interno c'è uno scavo abbastanza profondo e la sera escono, oltre ai topi, anche degli odori nauseabondi. Tutto il quartiere purtroppo è in una situazione di disagio. Abbiamo fatto delle richieste all'URP, però non vengono puntualmente, come si suol dire, non vengono effettuati i lavori. Anzi, abbiamo fatto una richiesta nella via Lecce, perché c'era un palo della luce che aveva dei problemi perché per la ruggine stava cadendo. Sono venuti, hanno tagliato il palo. Sì, è vero, hanno risolto il problema della cadenza del palo, però la signora è senza luce da circa due mesi. Chiedete un intervento al comune? Certo, non possiamo stare qui, stiamo fuori. Se mangiano lì, cosa fare? Questa sera alle 20, nei locali del Resort Falconara, il Chivanis Club Gela celebrerà il 29esimo charter. Si rappresenta il governatore del Chivanis Club Italia e San Marino, il luogotenente della quinta divisione Sicilia e numerose personalità. La serata tende a celebrare l'anno di nascita del Club di Gela che si è distinto in numerose attività sociali. Durante la serata di oggi sarà consegnato anche il premio Vir singolari virtude praedetuse che sarà donato ad un cittadino gelese che si è particolarmente distinto nello suo campo lavorativo, dando così lustro alla sua città di appartenenza. Gli anziani e soggetti portatori di handicap residenti a Gela possono presentare istanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione dell'azienda siciliana Trasporti relative all'anno 2017. Le domande corredate dalla documentazione prevista devono essere presentate al protocollo generale del Comune entro il prossimo 26 agosto. Il modello dell'istanza è disponibile negli uffici del segretarieto sociale in Viale Mediterraneo o può essere scaricato online dal sito internet del Comune. C'è anche il gelese Roberto Collodoro tra gli artisti nazionali e internazionali che parteciperanno alla seconda edizione di Pank in Art l'evento organizzato a Maiori in provincia di Salerno dalla associazione Open Art. L'obiettivo è quello di abbellire il lungomare dedicato a Roberto Rossellini nell'ambito della promozione e della rivalorazione dell'arte. Saranno dipinte le panchine. L'iniziativa avrà inizio domenica 10 luglio. Noi ne abbiamo parlato oggi proprio con Roberto Collodoro. Roberto è una bella iniziativa essere selezionato per partecipare a questa bella iniziativa Pank in Art che vedrà Gela essere presente in Campania. Sì, è una bellissima iniziativa. È un concorso che selezionava artisti nazionali e internazionali. Sono stati scelti sei artisti sia come ho detto poco fa nazionali e internazionali di cui tre siciliani, io, Domenico Pellegrino e Max Ferrigno e poi un'artista giapponese, una belga e poi invece altre dieci panchine sono destinate a un concorso che hanno fatto sui social in base ai like. E come cosa farete? Cosa svilupperete proprio in Campania? L'evento si sviluppa così. Sono tre giorni. Il primo giorno ci sarà una presentazione ufficiale con la prima azione della giuria. Il secondo giorno dipingeremo queste panchine. Sono panchine fatte apposta per l'inaugurazione di questo nuovo lungomare intitolato al regista Rossellini. Ognuno avrà la sua panchina. Dipingeremo le panchine. Saranno lì come se fosse una galleria all'aperto. Ma porterà i colori, la freschezza e anche il caldo di Gela su quelle panchine? Casualmente il tema sono i limoni amalfitani. Quindi avremo limoni buttati lì. Le panchine saranno piene di questi limoni. Il tema è anche il regista Rossellini. Però i colori della Sicilia li portiamo dietro. Adesso ci auguriamo che questo concorso venga anche esteso ad altre località e ci riferiamo soprattutto a Gela. Sì, sono iniziative che possono essere portate dappertutto. Il nostro territorio è ricco di zone da riqualificare, da dipingere. Quindi si possono fare bandi sempre. Se ci trovassimo in questo momento a intavolare un concorso a Gela, cosa vorresti dipingere? Ci sono zone del centro storico. Sono dei vicoletti totalmente abbandonati. Case dove noi vediamo soltanto il muro ormai in piedi. Quindi si potrebbe benissimo fare una cosa del genere. Sono stati riaperti al Comune di Gela i termini per la presentazione dell'istanza per la concessione del buono socio-sanitario in un favore di nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi relativo all'anno 2016. Loren De Noto, l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela. Sono interessati solo coloro i quali non avessero ancora provveduto entro il 30 aprile scorso. Le istanze devono essere presentate entro il prossimo 20 luglio al protocollo generale del Comune o inviate per mezzo posta raccomandata corredata dalla ricevuta di ritorno. Sono destinatari del buono socio-sanitario le famiglie che mantengono o accolgono anziani di età non inferiore a 69 anni e un giorno in condizioni di non autosufficienza titolari di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento debitamente certificata o disabili gravi purché conviventi e legati da vincoli familiari ai quali garantiscono direttamente o con impiego di altre persone non appartenenti al nucleo familiare prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario. La condizione economica valutata con certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 7 mila euro. Per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del Comune o rivolgersi all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo. Ci fermiamo lì in allergia per la pubblicità. Rieccoci seconda parte del telegiornale. Oggi alle 21 incontro al Club Vela di Gela si parlerà di canapa industriale e della reintroduzione della cultura in Sicilia. Con l'aiuto dei relatori presenti si cercherà di sgombrare il campo dai pregiudizi e di valutare gli impatti economici e ambientali che il ritorno alla coltivazione della canapa può avere sul territorio. L'evento è realizzato con la collaborazione di Omega Benessere di David Melfa. Con l'arrivo dell'estate i nostri amici a quattro zampe soffrono il caldo proprio come noi. Le alte temperature non risparmiano gli animali, vittime d'avvolta dei loro padroni. Gli animali domestici che presentano temperature corporee alte di per sé in estate come l'uomo possono andare incontro al colpo di calore o al colpo di sole che può mettere seriamente in pericolo la vita dei nostri amici. Ecco perché dobbiamo essere particolarmente attenti a tutelare la loro salute. Ingannati da stereotipi e luoghi comuni, spesso infatti non sappiamo come aiutarli e commettiamo errori che potrebbero rivelarsi fatali. Da qui la necessità di sapere come comportarci quando decidiamo di portarli in vacanza con noi, di come riconoscere i segni di sofferenza e soprattutto come intervenire per poterli aiutare. Ecco perché ci siamo rivolti a un veterinario. Come riconoscere il colpo di sole? L'animale comincia ad avere una salivazione intensa, un respiro corto e molto affannoso, salivazione con saliva pastosa, secca, biancastra e una fame d'aria evidente. Se ci si trova in borsa un termometro digitale, va bene anche quello pediatrico, si può immediatamente misurare la temperatura, il termometro segna a volte le temperature così elevate, che superano anche i 41 gradi, che mettono realmente a rischio la vita dell'animale. Cosa fare nell'immediato? È importante saperlo. Raffreddare subito l'animale con acqua fredda ma non ghiacciata. Se non si ha a disposizione dell'acqua, magari anche un ventilatore o un climatizzatore, ecco è importante raffreddare gradualmente il cane o il gatto al fine di far scendere la temperatura corporea. Bagnare le estremità, le dita, i polpastrelli, le ascelle con dell'alcol, che ha la funzione di allontanare il calore dal corpo, dare dell'acqua a disposizione, ma non forzare il cane se non vuole bere. Fatto questo, ed è importantissimo, perché dalla tempestività dell'intervento del proprietario dipende la successiva prognosi del cane. Se si riesce a fare questo in maniera più o meno tempestiva, bisogna comunque andare immediatamente da un veterinario che possa effettuare tutte le terapie del caso al fine di ripristinare la temperatura corporea e di evitare tutti i segni successivi, quali per esempio le convulsioni nei casi gravi, il vomito, la diarrea, eccetera. E quindi poi sarà il veterinario a cercare di mettere in salvo la vita del nostro animale. La libreria Mondatore di Gela, in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura, presenta il libro Le contraddizioni del mentre di Ornella Sgroi, appuntamento previsto per oggi alle 19.30 all'Eschilo Lab. Converserà con l'autrice, lo scrittore e giornalista Maurizio Nicastro, lettura e la cura delle attrici Maria Carla Aldisio e Maria Giannone. E adesso parliamo di calcio, il Gela ha scelto il luogo in cui effettuerà il ritiro precampionato. Sarà Zafferana Etnea, in provincia di Catania, comune che fa parte del Parco dell'Etna, ad ospitare il ritiro precampionato del Gela Calcio. Il paese, di poco più di 9.500 abitanti, sorge a 574 metri sul livello del mare alle pendici orientali del vulcano, includendo nel proprio territorio paesaggi di inestimabile bellezza naturalistica, dai fitti boschi alle distese di deserto lavico. Ed è proprio in quel luogo che la società biancazzurra, presieduta ad Angelo Tuccio, comincerà la stagione 2016-2017, che la vedrà ai nostri di partenza nel campionato di Serie D. Il ritiro si darà dal 18 al 31 luglio prossimi, presso l'Esperia Palace. Pochi giorni prima, il 14, 15 e 16, è prevista la prima fase con visite mediche e test atletici che si svolgeranno a Gela. Subito dopo il ritiro precampionato, dunque dal 1 agosto, la preparazione atletica proseguirà sul terreno di gioco del Vincenzo Presti, per completarsi prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia, subito dopo il ferragosto. La prossima settimana il club biancazzurro renderà noto il calendario degli impegni amichevoli che la squadra sosterrà per prepararsi al meglio. La compagine gelese anche quest'anno sarà guidata dal tecnico Totò Brucculeri. L'allenatore ha dimostrato grandi capacità e i risultati ne sono la testimonianza più evidente. Due panchine col Gela, due promozioni consecutive. Finora la società gelese ha tesserato un solo giocatore e che giocatore? Si tratta dell'attaccante Santino Biondo, prelevato dalla Rocca di Caprileone in eccellenza girone B. Il suo biglietto da visita dice tutto, 22 gol nell'ultima stagione. Riconfermati aggiungiamo giustamente il centrocampista Capitano Bonaffini, il centrale di difesa Campanaro e gli attaccanti Alma, Mincica e Nassi. Il direttore sportivo Gianni Martello sta lavorando sotto traccia per far vestire ad altri la casacca bianca-azzurra. Ricordiamo che quest'anno in Serie D è obbligatorio avere quattro under in campo. Un giocatore nato nel 1996, due nel 1997 e uno nel 1998. I testimoni di Geova in questi giorni hanno avviato una campagna speciale per invitare tutti ai congressi di zona del 2016 che avranno come tema Rimaniamo Leali a Geova. L'evento gratuito si tiene da oggi a domenica di ciruglio nella sala delle assemblee di Caltanissetta in Contrada Casale, località Canicassè. Durante la tre giorni del programma si susseguiranno 49 interventi, ognuno dei quali approfondirà il tema della lealtà. Inoltre, appositamente per questo evento, i testimoni hanno preparato 35 video e due brevi film che saranno proiettati domani e domenica. Ogni giorno le sessioni mattutine e pomeridiane saranno introdotte da video musicali. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.